buona domenica delle palmi amici e buon inizio di settimana santa a tutti speriamo davvero in questi ultimi tempi così difficili che l'umanità possa ritrovare almeno un po' di pace siamo qui questa mattina per illustrarvi alcune pubblicazioni inerenti specie di uccelli non solo su Wide Planet Photo Magazine siamo nella zona di Crova e vorrei un attimo descrivervi questo territorio le specie in questione saranno la natra marzaiola, la pavoncella, il cavaliere d'Italia e poi esuliamo un d'albero i guaccini per parlare dell'antria ma vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta allora ci troviamo in quest'area l'area di Crova qui siamo negli intorni della cascina o schiena che si trova qui negli ultimi dieci anni quest'area è divenuta gradatamente un prestigioso sito di board watching a livello nazionale infatti diverse volte mi è capitato di incrociare diversi fotografi professionisti appassionati provenienti da altre regioni d'Italia ci sono specie di uccelli qui ormai stanziate durante la stagione riproduttiva come la pittima reale e il cavaliere d'Italia lo scorso 27 marzo mi sono recata a Crova per un sopralluogo breve e ho proprio visto attorno all'oasi attorno a questa cascina un'oasi creata appositamente per avvantaggiare l'alimentazione e la riproduzione di questi animali date le preoccupanti contenzioni di siccità ora andiamo ad analizzare specie per specie partiamo dalla anatra marzaiola è un anatra di superficie che si immerge solamente per la ricerca di cibo e si riconosce, vedete, per i bordi bianchi che ci sono sulle ali in questo piumaggio così colorato qui in questo caso ho utilizzato una Nikon D3000 perché l'ho posta lateralmente alla cascina con lente fissa di 500 mm è un po' difficile utilizzarla alla mattina in condizioni non molto luminose per cui bisogna scegliere proprio una fascia oraria adatta per il broborge sperando poi di trovare le specie desiderate nel mattino di solito i cieli non sono disturbati molto quindi è abbastanza facile trovarli questo nostro territorio è particolarmente adatto per la riproduzione dell'anatra marzaiola che inizia di solito verso la fine di aprile passiamo ora all'analisi di un'altra specie tipica di questa zona come dicevo prima che è il Cavaliere d'Italia il Cavaliere d'Italia è scientificamente noto come Imantopus il Cavaliere d'Italia è un animale molto elegante vedete ha dei riflessi fantastici nel nostro mare a quadretti anche qui stessa ottica da lontano rende bene perché crea un bellissimo sfondo dove il riflesso in risaia è particolarmente risaltato sono animali che creano una competizione intraspecifica all'interno della stessa specie soprattutto durante la stagione riproduttiva durante il periodo del corteggiamento qui c'è anche qui una breve descrizione la dieta del Cavaliere d'Italia si basa essenzialmente su piccoli insetti in vertebrati acquatici e meno male che c'è questosi per contrastare proprio le condizioni di essiccità e per permettere a questo bellissimo animale di alimentarsi e di riprodursi quindi passiamo oltre e andiamo ad analizzare la nostra pavoncella la pavoncella si riconosce subito dal volo è un volo veloce, ondulato è comunque un uccello di media grandezza il nome Vanellus deriva dal latino e si riferisce al propagarsi del segnale d'allarme lanciato dall'animale che ricorda il rumore del grano durante la vagliatura questo velo nuziale è tipico non solo della pavoncella ma anche di numerose ardeidi quindi aironi, garzette durante la stagione riproduttiva ecco, essendo molto vicino qui a dove abbiamo accostato con la macchina ho preferito utilizzare una lente di diametro inferiore quindi una 300 mm una di 7100 e qui abbiamo questo anche qui un territorio adatto a questo animale perché predilige le aree umide andiamo oltre ancora e passiamo all'ultimo qui esuliamo come vi dicevo prima l'alberwatching per parlare un attimo del problema tra virgolette delle nutrie mio castor coipus eccolo qua il comune castorino tanto detestato dagli agricoltori predilige ambienti umidi e soprattutto in questi sistemi ormai secchi è facilmente riscontrabile è un potenziale vettore in effetti di parassiti e di altri patogeni ma la sua espensione è stata limitata da un piano di abbattimento programmato tuttavia si tratta di una specie di facile espansione di facile ricolonizzazione qui anche qui una lente sempre di 500 mm qui era una posizione favorevole mi sono rimasta un po' colpita da questi riflessi che per fortuna ha reso bene l'idea con questa ripresa fotografica una precisazione solo ancora su questa zona abbiamo parlato prima di competizione intraspecifica quindi qui abbiamo più che altro un biotopo io qualche anno fa avevo scritto nel blog un breve articolo fotografico con il mio dolce biotopo la mia dolce biocinosi perché amo moltissimo in primavera girare tra le risaie allagate quindi abbiamo qui un biotopo perché è un luogo circoscritto a queste specie dove è più facile trovare animali della stessa specie che sono in competizione tra di loro la differenza in questi ultimi anni di zone come Prarolo come Pezzana dove ci sono possiamo trovare anche a Leria nella centrale Ironi Cinerini Ironi Guardavuoi Ibis che hanno sì avuto una competizione intraspecifica ma hanno anche imparato a coesistere quindi per questo si è creata una comunità che in scienze naturali chiamiamo biocinosi se poi volete leggere questo articolo sono nella descrizione di questo video accompagnare a questo video su YouTube sul mio canale troverete un link dove potrete andare a leggere questa breve differenza tra biota tra biocinosi e ammirare anche altre fotografie concludo facendovi ancora vedere un'immagine premiata su Landscape Photography Magazine che partecipa al segnamento di questo mese di aprile Longlands qui siamo ad Alassio il mare in inverno non c'è cosa più bella secondo me del mare in inverno in questa stagione io il mare lo amo da autoveratore sono sei anni che non lo vedo spero in tempi migliori di potermi ricarico in mezzo come chiedeva proprio la rivista ho scelto questa fotografia perché è stata scattata con una di 5000 della Nikon sempre con una lente fino a 300 mm io penso che adesso voi mi riterrete magari ingenua banale però io ho pianto quando ho visto questa scena perché mi sono profondamente commossa un regalo di madre natura io ritengo che madre natura le cambi l'amore perché la venera perché la rispetta perché la adora colmandoci di questi doni così preziosi come questa scena questa alba sul mare come ho scritto qua ho utilizzato una modalità program con una forte sottoesposizione a meno 1,3 di solito si tende a sottoesporre di meno a meno 0,7 per rendere nitido un paesaggio il cielo blu un fiore qui in questo caso per accentuare la potenza del sole e il colore sul mare ho preferito sottoesporre ancora di più il giornale ha apprezzato questa idea meno male e quindi è stata questo mese di aprile e questa fotografia rimarrà in mostra per questa proiezione online multimediale qui c'è la descrizione dettagliata della fotografia delle sensazioni che ho provato bene siamo davvero in conclusione della nostra puntata domenicale per ricordarvi alcuni appuntamenti a cui non potete mancare allora mercoledì 13 aprile alle ore 17.50 si terrà una video intervista ma badate bene questa video intervista è aperta al pubblico l'è fatta per stare insieme per scambiarci gli auguri pasquari ho preferito rimandare la videoproiezione la settimana prossima perché molta gente parte molta gente è indafferata si vuole uscire lo capisco quindi ho preferito rimandare in una settimana per fare le cose per bene con molta calma soffermiamoci un attimo tutti insieme la vita è breve il tempo scorre molto spesso lo passiamo nella fretta litigando discutendo cose inutili vuole essere un'occasione per trovarci un'oretta neanche per chiacchierare per presentare i progetti fotografici per vedere delle fotografie naturalistiche e un'anticipazione io vi manderò ovviamente tutti i link nel 20 aprile alle 20.50 ci sarà una videoproiezione dal titolo non c'è cosa più bella di un fiore dedicata alle persone che sono morte durante la pandemia ma vuole essere una dedica soprattutto per tutti coloro che sono scesi in campo contro la pandemia io spero di sensibilizzare chi ha avuto meno buon cuore di altri chi ha continuato a negare chi ha continuato a protestare di fronte a restazioni dovute quindi è una dedica ai medici agli infermieri ai biologi ai medici veterinari ed è giusto sottolineare medici a tutti i volontari del soccorso a tutti coloro anche che hanno prestato aiuto e cure agli animali ritenuti vergognosamente fonte di contagio e quindi abbandonati volontari che nonostante il lockdown si sono proteggati semi veterinari ovviamente per andare a fornire cibo e cure in canini colonie feline e gattivi quindi io spero di vedervi numerosi nell'intervista vi daremo tutti i dettagli si parlerà anche di Color Symphonies for Gauguin e il Mangog che è un progetto fotografico di arti visivi a cui ho preso parte sono stata selezionata e si parlerà anche di tematiche sociali quindi io spero di vedervi presto e soprattutto per scambiarci gli auguri di Pasqua grazie per l'attenzione vi auguro un buon proseguimento di giornata con un abbraccio e un grande bacio a tutti grazie per l'attenzione per l'attenzione